Il distretto strizza l'occhio al mondo del cinema realizzando una perfetta copia del vestito funebre di Isabella d'Aragona. Realizzato con un tessuto damascato, tessuto a prato, cucito da una sarta pratese e pensato all'interno del master La Soffa dei Sogni. L'idea di Confartigionato Impresa che ha raccolto la sfida lanciata da Manifatture Digitali. Sì, lavora per creare i presupposti per dare veramente un servizio a quell'industria del cinema e dell'audiovisivo che vuol lavorare sullo storico. È stato realizzato un prototipo, ma il distretto è pronto per la produzione. Abbiamo dimostrato la capacità di realizzare tutto quello che è stato il saper fare degli anni passati, dei secoli passati, riprodotto in chiave moderna. Il mercato di riferimento è un mercato di eccellenza. Una riproduzione fedele che ha visto coinvolto gli studenti del master che hanno riprodotto i disegni sul CAD, partendo da un'accurata ricerca storica. L'analisi del tessuto è cominciata a Napoli, mentre restauravano l'abito di Isabella io sono andata ad analizzare il tessuto. L'analisi del tessuto consiste nel controllare quanti fili ci sono al centimetro, quante trame ci sono al centimetro, che larghezza al partner, che altezza. La realizzazione dei 12 metri di tessuto è stata affidata alla tessitura Fratelli Poli. Bisogna creare un disegno, un disegno tessile, che poi praticamente adattarlo alla propria messa in telaio. Grazie.